A Vallo della Lucania si è svolto il primo consiglio di amministrazione della Banca del Cilento di Sassane, Vallo di Diano e della Lucania dopo il rinnovo delle cariche sociali approvato nell'Assemblea dei Soci del 25 giugno scorso. Il CDA è guidato dal confermatissimo presidente Pasquale Silvano Lucibello ed è costituito da Raffaele Baratta, Domenico Carlo Magno, Giovanni Fiorenza, Rosa Lefante, Marcello Eliseo Mango, Domenico Priore, Antonio Reitano e Celestino Sansone. A inizio 2021, a seguito dell'aggregazione con la BCC di Buonabitacolo, il CDA aumenterà i suoi componenti e sarà costituito da dieci membri più il presidente. Nel rispetto delle normative vigenti a causa della pandemia, alcuni dei membri del CDA hanno preso parte alla riunione in videoconferenza e come sempre non sono mancati l'apporto fondamentale del direttore generale Ciro Solimeno e dei vertici direttivi della Banca. Nel corso dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca del Cilento dello scorso 25 giugno è stato rinnovato anche il collegio sindacale che presieduto da Francesco Paolo è costituito da Marco Miraldi, Rocco Santoro, Giovanni Colucci e Vincenzo Pepe. Del collegio dei Probiviri, guidato da Giovanni Citro, fanno parte Donato Nicoletti, Rocco Truncellito, Tommaso D'Agosto e Prospero Mele. Il presidente Pasquale Silvano Lucibello, nel suo intervento introduttivo, ha voluto augurare buon lavoro ai componenti del CDA, del collegio sindacale e del collegio dei Probiviri. E il lavoro certo non mancherà, visto che i prossimi mesi si preannunciano densi di eventi per la Banca del Cilento, che tra le altre cose si appresta ad inaugurare la propria nuova sede a Vallo della Lucania. Ma ovviamente l'appuntamento più significativo è quello prevista a fine anno, quando si dovrebbero tenere le due assemblee straordinarie della Banca del Cilento e della BCC di Buonabitacolo, nel corso delle quali i soci saranno chiamati a dare il via libera all'aggregazione. La nuova banca sarà una delle più importanti del centro-sud Italia, con 28 filiali in tre regioni e quattro province, 170 dipendenti e un bacino di 50.000 clienti.